Patrick Franzoni, vice coordinatore della organizzazione medica Covid-19 della provincia di Bolzano. Noi stiamo organizzando questa campagna vaccinale con 100.000 dosi da somministrare in due giorni, lo mettiamo a disposizione della popolazione e abbiamo deciso di utilizzare il vaccino Moderna come dose booster, tra l'altro previsto dal Ministero della Salute e nelle note AIFA, che dicono molto chiaramente che il booster deve essere effettuato con un vaccino mRNA. Il vantaggio principale è dovuto al fatto, come stanno evidenziando alcuni studi e il Ministero della Salute a Singapore, che incrociando i tipi di vaccini mRNA, in alto agi abbiamo usato soprattutto Pfizer, quindi facendo un booster con Moderna, riusciamo ad avere una risposta immunitaria maggiore e quindi mettiamo in ulteriore sicurezza la nostra cittadinanza. Il secondo vantaggio è la logistica. Il vaccino Moderna è più gestibile, più stabile, più facile da preparare in loco. Bisogna tener conto che prepareremo vaccini in 40 sedi vaccinali e quindi è fondamentale avere la stessa qualità che abbiamo sempre avuto nei nostri centri vaccinali e questo è garantito da Moderna perché Moderna consente di estrarre 20 dose booster da un flaconcino, il flaconcino può essere appunto 19 volte, 20 volte nell'arco di 19 ore e le siringhe in cui c'è il vaccino rimangono stabili per 8 ore. Tutto questo permette di agire in sicurezza e non dimenticare anche il fatto che Moderna si somministra la dose booster a metà dosaggio, ossia rispetto al 100 microgrammi solo 50 microgrammi evocando un'ottima risposta immunitaria.